Ciao, 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 ciao Grazie di essere qui con me oggi Oggi sono sulle tre cime Scusate, sto usando la fotocamera interna Sennò ho paura di non far vedere nulla E appunto, non so quanto siano alte 1.6, 1.7, forse anche 2.000 metri sono Non ne sono sicura, perdonate le voci Ma appunto c'è gente sul sentiero, non tantissima, ma ce n'è Oggi è la prima volta che su questi microfoni, su questo canale Sono dei Rode, piccoli piccoli Che appunto sono wireless, quindi uno è attaccato al microfono E l'altro è staccato, ma dovrebbe sentirsi relativamente bene Sì, che sistemi i capelli Secondo me sto strinando Non ho portato la crema, accidenti E sì, sono appunto le tre cime che sono probabilmente Cioè la cima, la montagna Più famosa d'Italia Anche perché il Monte Bianco è al confine con la Francia E comunque siamo al Monte Bianco Probabilmente E sono famosissime perché appunto sono estremamente fotografate Perché vabbè adesso siamo proprio sotto 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 Quindi non si vede tanto Cioè non si capisce molto Però appunto si vedono anche in certe zone da lontano E si vedono proprio queste tre cime, piccari Sono estremamente riconoscibili Ecco, sono state famose anche per questo Oggi c'è un sole Un sole, un sole Che non vi dico veramente Spacca le pietre C'è un po' troppo caldo Infatti come vedete nonostante mi sia guardata la giacca E sono in maglione Cioè ho il pile sotto Però sono in maglione e ho caldo E nulla, volevo un attimo improvvisare questo video sulla neve Perché è un post talmente tanto bello Che mi dispiaceva proprio Non approfittarne per fare un video Visto che mi ero portata ai microfonini E mi mancava un po' fare un video così Diverso dal solito E non era programmato questo video in realtà Ho solo detto Vabbè, se ci riesco Se andiamo alle tre cime Cerco di appunto girare qualcosina E spero apprezzerete anche se È un qualcosa di estremamente semplice Siamo venuti qui in montagna Io e mio marito E i miei genitori ci hanno raggiunto per il weekend Cioè venerdì, sabato, domenica e lunedì Il weekend è un po' lungo E siamo a Porto in un appartamento a Monguelvo Che è in Trentino Invece qui siamo già in Veneto E siamo in provincia di Belluno qui mi sembra Adesso interrompo un attimo perché c'è gente che un po' urla Poi io amo la montagna La preferisco al mare Sempre preferita al mare E in montagna veramente tornerai negli stessi posti Tutti i mesi, tutti i weekend Se potessi Sentite che adesso si sente un pochino Secondo me Le le ciaspoli O comunque gli scarponi sulla neve Aiuto, sono caduta E ieri abbiamo fatto il lago di Anterselva Che era bello ghiacciato appunto E mi ha detto vabbè andiamo quelle trecime Poi penso che Oggi pomeriggio andremo verso Cortina Che devo dire sicuramente ci sono già stata Ma non mi ricordo Non me la ricordo E sicuramente bellissima Anche perché ha tutte le montagne intorno Quindi poco ma sicuro è bellissima Mi sta un po' congelando il sedere sopra la neve Devo essere sincera Guardate che meraviglia Troppo bello Guardate che meraviglia Ok io ho messo lo 05 così Magari vedete meglio E vedete Una cima Oggi c'è una giornata pazzesca Pazzesca, pazzesca, pazzesca La seconda Sta passando anche un aereo E la terza cima Posso un po' vedere le cime delle montagne Mi faccio vedere tutto intorno E si sente un po' di chiacchiericci Ovviamente delle persone Non posso impedirle giustamente La teca meraviglia E qui su dopo si vedono Appunto Una, due e tre cime Adesso vuoi capire come fare tracing Con il microfono Ci provo Faccio un po' di tracing So ciò che vuoi di fronte Scusate qui Volevo che fosse fuoco ovviamente Che fossero fuoco le montagne Non il mio dito E vado sopra ogni cresta Dopo sopra le altre rocce Fin giù Alla valle Lì c'era appunto una cittadina Qui il sole E andando avanti Lì C'è il rifugio Auronzo A cui siamo arrivati tramite una motoslitta E poi ho fatto Tutto questo percorso A piedi Fino ad arrivare Fin dove sono ora Infatti si vede della gente E poi c'è un altro percorso A piedi Che porta invece Al famosissimo Rifugio Locatelli Tutto lì Lì Invece guardando Sopra di me Ci sono Le tre cime Da sotto sotto Sopra di me ho approvito ho aspettato il giorno dopo per fare un po' di tracing anche su un posto nuovo in cui sono andata che è a Prato Piazza, che invece è in Alto Adige abbiamo fatto una passeggiata stupenda, comunque c'era molta neve e appunto ho fatto un po' di tracing anche qui guardate che meraviglia la vista quello penso sia il Grota Rossa ma non vorrei dire una cavolata e questa invece è Ami, molto molto felice della passeggiata e di aver corso la montagna sarà sempre uno dei miei luoghi preferiti in assoluto guardate che bella e tutti 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 gli alberi e in fondo si vedono anche le piste d'asci di fondo volevo concludere questo video al caldo e sera e sono davanti al finto cammino che c'è nell'appartamento che abbiamo appunto affittato per questi quattro giorni e so che questo video l'ho appena montato ho appena montato la parte che ho girato oggi l'ho un po' riascoltato è molto particolare, ci sono diversi suoni domani aggiungerò anche qualche suono sulla neve perché non ne ho fatti tantissimi e spero che il suono del finto camminetto non sia troppo forte vorrei carino lo trovate e nulla come vedete oggi alla fine dicevo che c'era il sole mi sono scottata ovviamente e nulla in generale i rumori mi piacciono tanto quelli della natura e mi mancava fare un video un po' così un po' vecchio stile un po' voglio sono qui e voglio assolutamente fare un smr dove mi trovo perché secondo me i suoni sono belli mi mancava quindi comunque c'è tutto il risultato ditemi cosa ne pensate di questi microfonini ci devo un attimino ancora lavorare però siccome non sono malissimo e del resto nulla direi ditemi cosa ne pensate di questo video ditemi se in generale ne vorreste altri un pochino simili ogni tanto per cambiare e io mando un pochino che li spera l'ho